La giungla, agenzia immobiliare per famiglie e non, vi sta mostrando questa bellissima casa nella foresta equatoriale del Polo Nord, dove possiamo vedere un serpente, finto, un corallo, camera spaziosa, non c'è che dire, assolutamente, delle belle mensole, una bella porta con una coperta e di tutto veramente un prezzo esageratamente bello.